Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana delinea uno scenario decisamente tranquillo, con tempo stabile e clima gradevole. Il dettaglio di lunedì 18 ottobre. Sul Veneto fino al primo mattino potremo avere foschie e locali nebbie in pianura, ma saranno in rapido dissolvimento. Sarà soleggiato dappertutto con il passare delle ore, con cielo sereno o al massimo con locali passaggi di velature. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, non cambia lo scenario con tanto sole dappertutto e cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime sui 19 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, il cielo si presenterà sereno in mattinata, qualche addensamento al pomeriggio, ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 20-21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.